Non mi aspettate rivelazioni o notizie, vi voglio solo dire che ho avuto un colloquio faccia a faccia col Presidente Berlusconi in assoluta amicizia e lealtà, come sempre e che le valutazioni non le faccio naturalmente da solo, ma entro oggi qualche cosa maturerà. Grazie, arrivederci. Ma ci dirci qualcosa? No, questo era un colloquio mio col Presidente, poi ci sono altre persone presenti a tutta una serie di incontri oggi, ma io sono venuto a parlargli di quello di cui parlano i giornali, della possibilità che sorga collegato al centrodestra del Popolo della Libertà anche un altro soggetto. Ne abbiamo parlato in assoluta amicizia e condivisione, naturalmente non sono solo io che devo decidere, ma penso che le ore decisive siano le prossime. Berlusconi sembra favorevole a questa ipotesi? Arrivederci. Sa se hai incontrato, che cosa si sono detti con Maroni? E chiedendo da lui, lo so, ma chiedendo da lui.